Questo libro dà due indicazioni, l'indicazione grafica e l'indicazione fonetica. Questa è la lettera A, A di aereoplano. Lettera B, B di bambino. Lettera C, C, di casa. Lettera D, D, di dinosauro. Lettera E, E di elefante. Lettera F, F, di fontana. Lettera G, G, di gorilla. Lettera H. Lettera I, I di igloo. Lettera J, I lunga. Lettera L, L, di leone. Lettera M, M, di mamma. Lettera N, N, di noccioline. Lettera O, O, di orsacchiotto. Lettera P, P, di pinguino. Lettera Q, Q, di quadro. Lettera R, 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 di robo. Lettera S, S, di sole. Lettera T, T, di tartaruga. Lettera U, U, di unicorno. Lettera V, V, di verde. V, W, W, segno di viva. Lettera X, X, di xlofono. Lettera Y, I, di ioio. Lettera Z, Z, di zoo.